segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te pietro orlandi il secondo esempio che le voglio portare buonasera benvenuto fratello di ammanuele orlandi scomparsa 40 anni fa lo conoscete l'avete avuto modo di conoscerlo anche in questa trasmissione prego si accomodi oggi è successa una cosa per cui carlo calenda è molto impegnato no sul sulle vicende sul sullo scandalo che non si conosca la verità sulla scomparsa di sua sorella oggi che è successo è successo che c'è stata discussione perché ci stiamo preparando ci stanno preparando per la calendarizzazione che è stata fissata a marzo per creare la commissione per creare questa commissione parlamentare di inchiesta sul sul rapimento di emanuela e ad un certo punto il presidente della commissione ha detto che c'è stato uno stop da parte del governo per approfondimenti e quindi in quel momento hanno detto che sarebbe stata rinviata e lì ha scoppiato un po di 40 anni basta una telefonata andrea purgatorio federica sciarelli per per sapere cosa può essere il segnale anzi le faccio che stargli alla fine perché serve una commissione di inchiesta ci fa un esempio commissione inchiesta secondo me serve per chiarire intanto le quelle situazioni poco chiare che ci sono stati tra due stati lo stato italiano e stato vaticano perché non parliamo soltanto del rapimento di una ragazzina ma quello che c'è stato intorno certo e la devo dire della sudditanza psicologica dello stato italiano nei confronti del potere vaticano si faccia un esempio di una cosa che potrebbe di cui potrebbe interessarsi la commissione inchiesta intanto potrebbe ascoltare quei magistrati che si sono occupati alla fine dell'inchiesta che secondo me è stato uno dei fatti più gravi uno dei magistrati dottor capaldo e pochi anni fa avuto un incontro con due rappresentanti dello stato vaticano e c'è stato una serie di incontri erano il comandante della gendarmeria vaticana e il suo vice veniva in rappresentanza delle entoraci di ratzinger monsignor georg e papa ratzinger volevano quel momento si parlava della sepoltura di de petis e il vaticano voleva che la magistratura togliesse de petis dal dentro perché imbarazzava molto la chiesa capaldo in cambio chiese un aiuto per la questione di emanuela e alla fine di questi incontri diciamo capaldo chiese se emanuela è morta la restituzione del corpo di emanuela la risposta non è stata come si permette la risposta è stata va bene purché la procura qui c'è stata una corruzione vera e propria la procura imbastisca una storia verosimile che tolga qualunque responsabilità parte del vaticano questo è stato detto dai rappresentanti dai rappresentanti il dottor gianni che è la comandante della gendarmeria in rappresentanza di ratzinger il problema principale è stato che non si è fatto sentire nessuno capaldo pubblicamente fa una dichiarazione all'ansa dicendo ci sono persone in vaticano sono a conoscenza di tutto è intervenuto il nuovo capo della procura di roma pignatone che si era appena insediato si è dissociato da quelle dichiarazioni ha tolto l'inchiesta a cavaldo c'è un'intercettazione della moglie di de petis che dice che dice ad uno degli indagati monsignor vergari dice meno male sia tranquillo monsignor è che è arrivato il procuratore nostro riferendosi a pignatone ha già fatto capo fuori capaldo il capo della popoli ci ha messo i suoi assicurato ai miei avvocati che lui archivia tutto dov'è ora pignatone archivia tutto e papa francesco appena finito il mandato l'ha promosso presidente del tribunale vaticano carlo calenda sono stato più conciso perché c'è il massimo il massimo rispetto per il magistero spirituale della chiesa cattolica ma questo non c'entra niente col magistero spirituale della chiesa cattolica c'entra col fatto che noi siamo uno stato laico sovrano che rispetto a una cittadina rapita sul suo territorio non può accettare reticenze da un altro stato che è il vaticano e che deve rispondere spiegare e una commissione di camerale una commissione come questa ha poteri di fatto equiparabili a quelli della magistratura quindi può interrogare i testi può fare domande bisogna risponderli questa cosa va chiarita e questa storia non è solo un caso insoluto e un dramma umano per la famiglia è un caso che ha a che fare col modo certe volte assolutamente sottomesso con cui lo stato italiano si rapporta con lo stato del vaticano e questo non va bene perché salta il via libera alla commissione di inchiesta la 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 causa è 48 ore per verifiche tecniche io penso che su questa cosa si è messa un modo si è messa in moto una grande opinione è molto difficile che possano ritirarla tra l'altro io ho presentato la stessa commissione dal senato quindi se dovessero bloccarla dalla camera ripartiremo dal senato questa roba qui è una cosa che attiene alla dignità dello stato italiano dei cittadini italiani dentro orlandi lei spera che la cosa si sblocchi lei comunque ha speranza che la cosa va davanti io assolutamente secondo me guarda io ero quando ho incontrato i vari presidente della camera il presidente del senato il sottosegretario mantovano che è stato tirato in casa in qualche modo adesso io ho trovato ovviamente la volontà la voglia di andare avanti la cosa che mi ha fatto piacere a differenza di tanti anni fa perché negli anni non contrari politici ogni volta è nominato il vaticano facendo un passo indietro io a differenza di tanti anni fa ho trovato un atteggiamento diverso anche nei confronti del vaticano questa volontà non accettare così passivamente il ditta che il vaticano fa spesso nei confronti della politica italiana su questo calenda è un campo in cui la politica può mettersi alla prova ripeto non per una questione che attiene alla spiritualità ma per una questione che attiene al rapporto tra due stati dove noi dobbiamo pretendere che le risposte su questa cittadina vaticana sì che ma che è stata rapita in territorio italiano vengano date senza reticenze e farebbe bene molto al vaticano farlo perché ormai le cose non si tengono più nascoste del seno adesso non